Con 200 produttori di vino e 700 etichette in arrivo da tutta Italia, torna Wine e Siena alla manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche che dal 1 al 3 febbraio animerà con tanti eventi tutta la città del Palio con una nuova location d'eccezione, il Santa Maria della Scala. Quest'anno tutto l'evento, quello principale, viene spostato al Palazzo Santa Maria della Scala e questo chiaramente vuol dire che rispetto agli anni precedenti dovevamo un percorso tra diversi palazzi come degustazione di vino, adesso ce l'avremo in un palazzo. Nulla toglie però l'integrazione di tutta la città perché i partner degli anni precedenti come l'MPS, l'Hotel Continental, la Fondazione San Sedoni e l'Università e il Palazzo Pubblico sono comunque integrati, da una parte abbiamo masterclasses, dall'altra parte abbiamo cene, ci sono presentazioni, l'Università che farà appunto la parte scientifica di convegno e sarà veramente un evento che richiamerà l'attenzione, farà un bel focus di tutta l'area vitivinicola nazionale. In programma per questa quinta edizione anche show cooking con i piatti della tradizione toscana come la pappa al pomodoro e la ribollita ma anche cinque masterclass prestigiose dedicate a Pinot Noir, Kerner, Silvaner e Chianti Classico, una grande vetrina per le produzioni italiane che apre la stagione degli eventi del vino in Toscana. È la prima manifestazione che riguarda il vino e non solo che viene fatta in Toscana. Apre peraltro una stagione come quella del 2020 e come quella del mese di febbraio molto ricca per la Toscana perché dopo Wine in Siena avremo il buy wine, avremo le anteprime, di un'annata peraltro molto positiva. Il 2019 è un'annata che ha dato sia qualità che quantità e questo rafforza la presenza dei nostri produttori, dei consorzi, degli operatori. Da non perdere anche il seminario dedicato alle birre realizzate con il lupolo spontaneo ritrovato a Siena e il concerto Musica e Vino all'Accademia Chigiana. Inoltre saranno presentate due ricerche realizzate dall'Ateneo Sienese sull'imprenditoria, viti vinicola al femminile e sull'anoturismo e la sostenibilità. Noi abbiamo voluto creare non solo una manifestazione, diciamo che sia una degustazione itinerante, vogliamo creare un proprio e vero evento per la città, quindi abbiamo trovato delle sinergie anche con l'Università di Siena. Due bei convegni che inizieranno il venerdì, prima quindi dell'inaugurazione della manifestazione, uno sulle donne del vino e il credito, perché molte donne oggi nel mondo del vino sono dei veri e propri imprenditrici in questo settore e poi c'è l'enoturismo e la sostenibilità.